In questo bellissimo castello siamo con il Presidente Giustino del Buonasera a te e vogliamo parlare di questa Just Mola Serie C2 giochiamo nel calcetto, calcetto a 5, giochiamo all'interno Quando si gioca la prima partita? La prima partita non è stata ancora stabilita perché c'è il comunicato che deve venire ancora fuori sarà la settimana prossima Oggi presento la squadra per quelli che sono gli obiettivi, per quelli che sono i giocatori che faranno parte di questa nuova stagione dopo la prima esperienza dello scorso anno che è andata a mio parere abbastanza bene perché come matricola siamo stati a lungo a giocarci il campionato poi purtroppo alla fine abbiamo perso qualche punto e ci siamo classificati al quinto posto per poi arrivare ai play-off e perdere in semifinali però fondamentalmente è stato un ottimo risultato I campani servono per dare aiutazione I campani ci aiutano come se fossero di festa per questo principio Quindi vogliamo assistere a questa presentazione di questa bellissima squadra e poi naturalmente fuoco alle polveri si inizierà a giocare poi il campionato Appena avremo delle informazioni ufficiali da parte della federazione ma aspettiamo giusto, sarà una questione di ore più che di giorni sapremo quando inizierà appunto prima la Coppa, la Coppa Puglia per poi seguire il campionato Quindi si punta per la Serie C1? Noi siamo ambiziosi, siamo ambiziosi e punteremo Abbiamo creato una squadra affinché faccia i buoni risultati e se arriva la C1 ho tanto di guadagnato, certo Grazie Presidente Grazie a voi